Era veramente tanto che un portatile non mi faceva arrabbiare come questo HP Elite Dragonfly G3. Perché? Perché da una parte ha degli spunti davvero ottimi e dall'altra degli scivoloni che onestamente non mi sarei aspettato. Ok, facciamo calma, facciamo un attimino di ordine, altrimenti qui non mi avanza più spazio. Vi elenco i pro, i contro e poi vediamo un attimino di tirare le fila su questo originale modello di HP. Allora andiamo per gradi, partiamo dalla prima cosa che si nota, cioè com'è costruito. È un 13,5 pollici di diagonale che pesa poco più di 1,1 kg, quindi tutto sommato è abbastanza leggero e questo è un aspetto positivo. Perché è realizzato in una lega di alluminio e magnesio e quindi gli permette appunto di contenere peso in rapporto alle dimensioni. Ma attenzione perché se lo schiacciate lo sentirete flettere visibilmente sia nella parte superiore che copre lo schermo che anche un pochino in quella inferiore che poi anche all'interno della tastiera come vedremo a breve. Insomma non vi dà quella sensazione proprio al tocco di portatile premium granitico che hanno altri notebook in questa fascia di prezzo. Poi ci arriviamo. Bene per quanto riguarda le porte perché dal lato sinistro abbiamo intanto una HDMI full size, soltanto 2.0, una scheda SIM, un slot per la SIM LTE non 5G sia chiaro e una Thunderbolt 4 con accanto un piccolo LED che indica appunto che state ricaricando il vostro portatile. Dall'altro lato jack audio combo, benissimo, una porta USB-A, curioso questo meccanismo per poter inserire appunto una porta di maggior spessore in uno spessore più ridotto, quindi bene, altra Thunderbolt e il Kensington lock in una posizione effettivamente un pochino strana ma comunque almeno HP ha inserito bene o male tutte le porte che ci potevano volere. Andiamo poi ad aprirlo. La prima cosa che si nota a questo punto sono tastiera e touchpad. Dunque la tastiera l'hanno ovvero tra i pro, non sarà la migliore mai provata ma il feedback al tatto è piuttosto buono, sono i classici tasti a isola, squadrati, diciamo che non ci sono criticità particolari da segnalare, ci si scrive velocemente abbastanza fin da subito, quindi nel complesso è una buona tastiera. Del touchpad all'inizio pensavo bene perché è bello ampio, ha un click un pochino troppo morbido per i miei gusti, però non è quello il problema, il problema è che ha una palm rejection davvero orribile. Tante volte mi trovavo a fare il classico scrolling con due dita e invece lui veniva interpretato come una gestura a tre dita, perché il palmo della mia mano, essendo anche così ampio, poggia facilmente in uno degli angoli del touchpad e questo viene interpretato come un tocco. E quindi succede che fate gesture a due o tre dita, in alto, in basso, vi tornate al desktop, tornate alla visualizzazione di tutte le app aperte, insomma, palm rejection, no. Per quanto riguarda lo schermo c'è lo stesso un dualismo. Perché? Perché se voi vi mettete comodamente seduti dritti davanti a lui, è uno schermo da 13,5 pollici, 1980x1200, risoluzione, diciamo, un po' insolita, non altissima. La calibrazione di fabbrica non è nemmeno impeccabile, anzi, lascia abbastanza a desiderare, ma in generale non è quello il problema. È molto luminoso, se lo guardate proprio frontalmente, è anche più luminoso della media, oltre 500 nit, ma il problema è che poi basta spostare un po' la visuale, basta inclinare anche lievemente lo schermo in un modo o in un altro e perdete tantissimo di qualità. L'altro giorno stavamo facendo una call tutti assieme e qui eravamo in quattro, tutti e quattro davanti, ovviamente non c'entravamo, alcuni di noi erano un po' laterali rispetto al portatile. Lorenzo, che era da un lato, dice io non vedo nulla, alza la luminosità. La luminosità era al massimo e chi stava di fronte la trovava quasi eccessiva. Il problema è che un po' lateralmente già quasi non si vedeva nulla. Voi direte, ok, è la privacy, però questa cosa può effettivamente scocciare, anche proprio nell'utilizzo singolo, perché davvero a volte basta inclinare un po' lo schermo e questa cosa subito si nota e non va bene. Per quanto riguarda poi il fattore prestazioni, qui all'interno c'è un i7-1255U. È un processore a basso consumo, sono 15 Watt, serie dodicesima di Intel, quindi mi aspetto che si comporti bene. Ed effettivamente c'è un lato molto positivo, che non offre delle performance da top di gamma, non quelle performance che ti aspetteresti da un laptop in questa fascia di prezzo, poi ci arriviamo, ma offre delle performance comunque buone per fare bene o male tutto il lavoro di ufficio, navigazione, multimedia, anche qualche cosa di più, perché per esempio la suite Adobe è molto amica dei processori Intel, quindi Photoshop assolutamente non è un problema, Lightroom e anche Premiere, volendo non è certo il portatile che consiglierei a chi faccia il videomaker, ma comunque non vi lascia assolutamente a piedi. E le performance sono anche costanti nel tempo, cioè non c'è thermal throttling, ben o male rimangono predicibili, prevedibili e questa è una cosa positiva. La cosa negativa semmai è appunto il fatto che in un laptop, in questa fascia di prezzo appunto, ti aspetteresti molto di più sul fronte prestazioni. È un serie U, era impossibile pretendere di più, tant'è che molti mettono un serie P, come per esempio sull'XPS 13 Plus o su tanti altri 13 pollici con, diciamo, pretese di performance maggiori. Il lato positivo è che comunque qui all'interno c'è una Iris Xe con 96 unità di elaborazione come scheda grafica integrata, che vi permette anche di giochicchiare Overwatch 2 con dettagli minimi. In bassa risoluzione un 1400x1050, vedete sono anche riuscito a registrare uno screen recording con il tool integrato di Windows, quindi nemmeno uno di quelli particolarmente leggeri, con un framerate tutto sommato accettabile. Sono riuscito a giocare bene senza essere condizionato dai cali di performance e quindi è un aspetto positivo, cioè è una buona scheda grafica nel complesso che vi permette appunto di prendervi anche qualche libertà in più, diciamo di stampo ludico o non necessariamente di stampo ludico che magari uno si potrebbe aspettare da un processore di serie U. Ma quindi, rifacciamo un po' di spazio perché comincio a sentirmi soffocare. Allora, abbiamo visto qualità costruttiva, è leggero, però comunque non è solido, non è robusto e adesso poi capite come mai faccio tutti questi paragoni con il laptop premium. Tastiera ok, touchpad no. Schermo sì è luminoso, ma va bene solo se lo guardi davanti. Le prestazioni ci sono per gli utilizzi più comuni, ma non sono di fascia elevata, non sono nella sua fascia di prezzo. Perché? Perché questo notebook DHP parte di listino da circa 2300 euro. È scontato al momento sul sito ufficiale a 1900. Lo street price può essere anche un pochino inferiore, fatto sta che è un prezzo davvero molto elevato. In questa fascia qui, dei 2300 euro, ci prendete l'XPS 13 Plus, che citavo prima, che è decisamente più potente, con uno schermo decisamente migliore. Ci prendete un MacBook Pro da 14 pollici, anche praticamente è ok. Lasciamo prendere il prezzo di listino, prendiamo quello scontato a 1900. Anche lì, un MacBook Air M2, che non è certo economico, ve lo dissi anche nella sua recensione, che costava troppo e vi consigliamo infatti il modello con M1. Un modello con M2, che ha uno schermo migliore, tastiera e touchpad decisamente migliori. Praticamente stesse prestazioni, se non migliori. Ah, e poi non ve l'ho detto, una cosa importantissima, mi stavo quasi per dimenticare, che questo HP fa benissimo, è l'autonomia. L'autonomia è decisamente uno dei suoi punti straforti, perché ci fate tranquillamente tutta la giornata lavorativa, le otto ore, diciamo, canoniche, ma stando con la luminosità bassa, intorno al 25, con un carico leggero, potreste anche farci quasi due giorni di utilizzo. Incredibile. Autonomia che ti fa capire come mai processore di serie U, come mai schermo a bassa risoluzione, autonomia che però appunto, dicevo, il MacBook riesce praticamente ad eguagliare. Quindi, quando un MacBook è più basso di te come prezzo e ti dà di più, è signor che c'è qualcosina che proprio non torna. Quindi se dovessi proprio fare una somma totale dei pro e dei contro, vi direi a prezzo pieno no, se lo trovate in offerta valutatelo, valutatelo se per voi l'autonomia è un must, e qui assolutamente siete proprio al vertice, portabilità e autonomia sono un must, le prestazioni abbiamo detto vanno bene, state attenti magari al touchpad, lavorate, non lo so, forse con un mouse, anche se in portabilità non è la cosa migliore, e lavorate quasi sempre da soli, seduti in una scrivania, in una posizione tranquilla, non in cose strane, perché lo schermo potrebbe non essere esattamente l'ideale. Insomma, è come vi dicevo all'inizio, ti fa arrabbiare, no? Perché bastava un po' di più di attenzioni qua e là, e al netto del prezzo, che ora diciamo che è tutto caro in questo periodo, quantomeno non ci sarebbero state delle anche criticità che potevano dissuadervi dall'acquisto. Invece in questo modo lo dovete attentamente soppesare proprio sul vostro tipo di utilizzo. Penso di avervi detto tutto in questa recensione girata veramente tutto di un fiato, dall'inizio alla fine, un grande piano sequenza, se fossi un attore mi farei complimenti, ma invece chiedo a voi, se il video vi fosse piaciuto, di iscrivervi al canale, fare un like, così almeno sarete aggiornati sui nostri prossimi contenuti, ulteriori dubbi o domande le potete fare nei commenti, c'è la recensione completa su smartword.it. Insomma, vi ho detto tutto, un saluto e alla prossima!